Ciao a tutti, sono Chiara Cruconcelli del liceo classico romagnoso di Parma. Mi trovo qui perché questa è la tappa della pilota. In questa tappa noi guide, diciamo, spieghiamo ai ragazzi Parma come città bombardata. Infatti questo è un prato che ovviamente anni fa, nel tempo di guerra, non era questo lo scenario che si vedeva. Questa è una delle prime domande che poniamo ai ragazzi, quindi cosa vedete di strano in questo luogo? Qui è vuoto, appunto, è uno spazio vuoto e questo è uno dei primi segni che ci fanno riconoscere che è stato un luogo bombardato. Senza contare poi che ovviamente alle mie spalle si vede ancora l'edificio e i segni si possono vedere con molta chiarezza. I ragazzi di solito questo lo dicono subito. È bello perché, appunto, chiedendogli, anche se non sono mai stati in questo posto, comunque non ci hanno mai fatto caso, riescono a capire subito. Quindi noi quando veniamo qua parliamo di Parma, città bombardata. Lì davanti a me c'è anche la statua del monumento al partigiano, stato posto dopo la guerra dalla città, proprio in onore di chi ha combattuto per la resistenza. E anche parlando di quello, i ragazzi riescono a cogliere il sentimento che ha portato i cittadini a fare questo monumento. E non lo so, anche osservandoli insieme, pur non avendoci mai ragionato su, magari, riescono a tirare fuori cose molto belle e capire, appunto, di cosa si tratta. Poi, insomma, quando mi trovo qua abbiamo fatto vedere delle fotografie di com'era questo luogo in passato, perché sia per me ma anche per i ragazzi è interessantissimo vedere come i luoghi si trasformino e, appunto, loro passano tutti i giorni magari di qui e non sapevano che magari lì c'era il teatro Reina che era stato, che poi ora non c'è più, oppure le facciamo vedere foto del teatro Farnese al momento del bombardamento e sono immagini davvero che li colpiscono molto e loro si soffermano a vederle, anzi sono davvero molto interessati. Mi è piaciuto di tutto il progetto il riscoprire luoghi della mia città che, attraverso i quali io, passavo quasi senza guardare o senza pensare, anzi sicuramente, e invece ho riscoperto storie, volti legati alla città che davvero non immaginavo. Mi è piaciuto anche trasmetterlo ai ragazzi, trasmettere questa mia passione ad altre persone. Cosa che cambierei? Non lo so. No, forse lo porterei anche nella mia scuola. Magari c'è poco tempo ma vorrei fare qualcosa anche di più, non lo so, tra i miei coetanei. Io sono Marco, io sono Davide, siamo del liceo Attilio Bertolucci di Parma, liceo scientifico, siamo in quarta e qui mostriamo ai ragazzi una tappa fondamentale della Resistenza di Parma. Si parte con una breve introduzione su quella che è stata la storia della Resistenza, sia generale, città italiana, sia quella di Parma. Poi si parla dell'episodio che è avvenuto qui a Palazzo Ducale, qui c'è stato uno scontro armato, poi questa tappa si va avanti, i ragazzi di solito sono sempre attenti. Beh, la curiosità di sapere cosa è successo perché a scuola studiamo moltissimo la storia antica ma poi anche quella moderna e questa è una cosa che ci interessa molto. A me interessava anche vedere un po' il come spiegare ai ragazzi, vedere un po' le cose dal lato dell'insegnante, vedere appunto un buon modo per sapere cosa è successo a Parma. Ciao a tutti, siamo Alessia De Pietri e Viola Castagnoli del liceo Romagnosi ci troviamo qui nel piazzale della Biblioteca Civica perché è un luogo particolarmente importante per il nostro percorso sui luoghi della Resistenza di Parma. Ogni nostra tappa del nostro percorso ha un simbolo particolare che i ragazzi di solito individuano sempre. Infatti il simbolo di questa tappa è le nostre stalle, è quello che resta appunto della scritta di questa caserma. Infatti qui c'è una caserma che l'8 settembre viene completamente svaliggiata dai partigiani e dai cittadini di Parma. Infatti diciamo che questa tappa è particolarmente divertente e anche interessante per i ragazzi perché entrano nel vivo di quella che è, che sarà la Resistenza, ma proprio la vita cittadina di Parma durante la guerra e durante appunto il periodo seguente la caduta di Mussolini e del governo Badoglio. Io ho aderito a questo progetto e alle medie grazie alla mia professoressa di italiano e storia di allora e quest'anno invece ce l'ha proposto la nostra professoressa di storia e filosofia e che si è sembrata una proposta molto interessante e quindi abbiamo aderito con molta partecipazione. Allora, oltre a partecipare agli incontri del professor Minardi che ci ha illustrato il periodo storico e quello che saremmo proprio dovute andare a spiegare ai ragazzi, abbiamo fatto delle ricerche anche personali, un po' in famiglia, un po' con i racconti dei nostri nonni, dei nostri parenti, ma anche appunto integrando con i libri di storia e le fonti che ci sono state fornite gentilmente dal listo storico della Resistenza. A me è piaciuto molto il fatto di riscoprire la mia città contando che molte volte giriamo per Parma e non sappiamo dove stiamo passando e che cosa è accaduto durante appunto i periodi che noi non abbiamo potuto vivere e quindi attraverso sia le documentazioni che le lezioni del professor Minardi siamo riuscite a scoprire un nuovo lato della nostra città. Poi diciamo che ci siamo fatti anche portavoce di un periodo storico visto da un altro punto di vista, non solo quello delle pagine dei libri e siamo riusciti a farci portavoce, a fare da guida a questi ragazzi che pensiamo di avere interessato.